Spazio dello sportello del cittadino riservato all'Adoc Puglia. Quest'oggi con l'avvocato Cinzia Ligustro, legale di Adoc Puglia, affrontiamo la tematica della raccolta differenziata. Certamente un gesto, una condotta di estrema civiltà e di rispetto per l'ecosistema, però occorre saperla fare bene. In che modo? La raccolta differenziata in effetti è importante, non soltanto perché se ben fatta va a vantaggio dell'ambiente, ma anche perché ormai molti comuni si stanno indirizzando verso un discorso anche di risparmio della tassa sui rifiuti solidi urbani legata alla quantità di rifiuti smaltiti correttamente. Quindi cerchiamo di capire oggi brevemente quali sono gli errori più comuni che i cittadini commettono nello smaltimento dei rifiuti in modo tale da compiere una corretta raccolta differenziata. Per esempio, nel vetro dobbiamo conferire nei cassonetti del vetro, solitamente distinti dal colore verde, il vetro pulito, quindi barattoli, bottiglie sciacquate in modo tale che non rimangano unte o sporche e soprattutto vuote, quindi bottiglie semivuote, sebbene anche di acqua, contenenti acqua, devono essere correttamente svuotate. Non bisogna invece conferire nel vetro, e questo è un errore che spesso i cittadini commettono, neonoscarichi, lampadine, quelle purtroppo vanno smaltite nelle isole ecologiche, quindi separatamente. Nella carta, ad esempio, è importante pressare i cartoni, pressare i fascicoli, i deplan, in modo tale da occupare il meno spazio possibile, e ad esempio non possono essere conferiti nella carta, un errore comune, piatti e bicchieri di carta, quindi sebbene siano puliti, devono essere conferiti nell'indifferenziato. E ancora, per esempio, gli scontrini spesso vengono smaltiti nella carta, invece no, perché sono realizzati con un materiale termico che è di difficile smaltimento. Per quanto riguarda la plastica, invece, varia un po' da comune a comune, ad esempio il polistirolo, in alcuni comuni viene riciclato come plastica, in altri va nell'indifferenziato, quindi è importante sempre seguire le indicazioni del singolo comune di appartenenza, di residenza. Il tetrapac, ad esempio, è importante che i contenitori sempre vengano lavati, svuotati, che venga svitato il tappino in plastica e riciclato nella plastica. Il tetrapac, schiacciato, in alcuni comuni viene conferito nella carta, in altri nella plastica. Un'ultima indicazione molto importante, mi raccomando, i rifiuti ingombranti, non vanno gettati, lasciati vicino ai cassonetti la sera, ma vanno correttamente portati presso l'isola ecologica oppure molti comuni hanno un numero verde al quale chiamare e fissare un appuntamento per il ritiro comodamente da casa.